Salve a tutti signori e bentrovati in questo nuovissimo video, un saluto innanzitutto da Max e torniamo a parlare del Festival di Sanremo per forza di cose, perché questi giorni sono totalmente dedicati al festival, anche se riusciremo per forza di cose a parlare anche di altro. Signori, in prima linea abbiamo Blanco, nemmeno a farla apposta, prima linea, come se fosse una guerra, perché ha combinato un casino, ha fatto un macello. Io ho visto il video nel web e sono rimasto veramente, devo essere sincero, mi sono messa a ride, mi sono messa a ride perché non è possibile, ho detto vabbè ma sta recita, no niente, è vero, vabbè. Niente da fare ragazzi, ci sono stati attimi veramente di panico durante la prima serata di questo festival, durante l'esibizione di Blanco infatti il cantante ha perso completamente la testa, perché non possiamo dire altro, spaccando tutto quanto sul palco, prendendo fiori con tutti i vasi e buttarli a terra e fracassandoli. Ma cosa è successo? Precisamente cosa si nasconde dietro quel gesto? Perché, devo essere sincero, non l'ha capito nemmeno Amadeus. E allora i fan del giovane in queste ore stanno cercando disperatamente di dare un senso, ma proprio forzatamente, anche se non lo troverai mai, a tutto ciò che è accaduto sul palco dell'Arison, avendo praticamente il resto del mondo contro. Perché? Non c'è un perché, è così e basta. In pratica l'artista era appena tornato sul palco dopo aver cantato con Mahmood, Brividi, la canzone vincitrice dell'edizione 2022. Blanco era lì per presentare anche il suo nuovo singolo, L'Isola delle Rose. Poco dopo l'inizio del pezzo, l'ex vincitore di Sanremo prima chiede di fermare la musica perché ha problemi di audio e non sente in cuffia. Poco dopo inizia a spaccare tutta la scenografia di Rose Rosse, allestita visto il titolo della canzone, L'Isola delle Rose, appunto. Riccardo Fabriconi, questo è il suo vero nome, spacca tutto, sedie, microfoni, chitarre, ma si capisce subito che sta esagerando e dalla platea partono i buo. Terminato il pezzo e col palco sfondato, fa il suo ingresso il padrone di casa Amadeus, che chiede al pubblico di calmarsi e non fischiare. L'artista bresciano dice allora, non mi sentivo e ho deciso che volevo divertirmi lo stesso. A quel punto Amadeus prima lo chiama Salmo, a quel punto lo invita a riprovarci. Blanco però è cieco di rabbia e non risponde neanche, anzi prende e si allontana dal palco. Poco dopo Amadeus dirà insieme a Morandi, Blanco non ricanterà non ci sono le condizioni per poter ricantare il brano. Al termine della serata, durante il successivo, viva Rai 2 viva Sanremo su Rai 1, il nuovo dopo festival condotto da Fiorello, si è tornati sull'argomento. Ama allora ha detto la sua. In realtà lui doveva fare delle cose con i fiori tipo rotolarsi sopra, non chiaramente quello che abbiamo visto. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo perché noi sentivamo la musica. Nel nostro box l'audio non era perfetto. Solo dopo mi hanno buttato dentro e mi hanno detto vedi che puoi fare, ma lì per lì non avevo capito. Ad ora Blanco non ha ancora replicato.